La nuova e forte gioventù d'Italia nell'urbe. Il Duce presenzia la marziale sfilata inframezzata da esercitazioni di fuoco dei 26.000 avanguardisti del nono campo Dux. Il Duce presenzia la marziale sfilata inframezzata da esercitazioni di fuoco Il Duce presenzia la marziale sfilata inframezzata da esercitazioni di fuoco Regioni, roma luce! Pronti per la scenazione! Via! Tor 2! L'Italia Bisogna Che? 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 Grazie a tutti.